Dicono che nel calcio non ci siano più le bandiere, quei giocatori che per motivi diversi sposano una causa e la difendono, caratterizzando la loro carriera per la fedeltà a una maglia, a una società, a dei tifosi. Dicono che i Baresi, Maldini, Bergomi, Tottio e Del Piero siano soltanto ultimi esemplari. Anche Salvatore Mastronunzio però sta per diventare un pezzo di storia dell'Ancona. Bomber implacabile, capitano trascinatore, giocatore salva patria, 100 presenze in campionato, con la maglia biancorossa, un traguardo ragguardevole da festeggiare la sera della partita più importante sino a questo momento. Capiterà tutto venerdì sera, poco prima dell'inizio del big match Ancona-Lecce, che può ridisegnare anche la vetta della classifica in caso di successo dei Dorici, la Vipera verrà premiata con una targa ricordo. Un legame, quello con il club di Piazza della Repubblica, che dura ormai da due stagioni e mezzo. La prima partita di Sasa è datata a 2 settembre del 2007. L'Ancona di Francesco Monaco gioca sul campo della San Giovannese, la seconda giornata del campionato di Serie C1. Un gol dirizzato allo scadere evita il K.O. Questo fu solo l'inizio di un'esperienza lunga, appunto, 100 partite con la maglia dell'Ancona. Il primo gol del Mastro è invece questione di una settimana. 9 settembre si gioca Ancona-Lucchese. Mister Doppietta, come ormai è stato ribattezzato, firma il successo con due gol. Quel giorno fu solo l'inizio di un'avventura nella quale la Vipera è a caccia del record, da di gol con l'Ancona, che appartiene nel dopoguerra Miserocchi con 53 centri. Emozioni e sensazioni, gioie e delusioni, esultanze e arrabbiature, responsabilità e affetto. Alla faccia delle bandiere, complimenti capitano.